salve buongiorno cerca lavoro si vediamo se lo trova questo è il lavoro dove è il lavoro? qui mi spiace aber wenn ich zu fangen kann eine neue chance zu geben ah si grazie arrivederci buongiorno cerca lavoro dove ci trova? qui no mi spiace grazie a te aber wenn er zu fangen kann ist eine neue chance zu geben wirklich sagt oh natürlich verdammt jeder zweite wir wollen ich hoffe glücklich sein die arbeit ist da es tut mir lai vor si trozende anche to be honest if you know how to get it i could give you another chance another? are you for real? yes but now it's too easy really? certo è più facile se conosci tre lingue ecco abonni ecco no 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 Grazie a tutti